buongiorno amici nexus lab sono alessandro e oggi vi presento la nostra video recensione del motorola moto g smartphone attesissimo ce l'avevate chiesto questa prova in tantissimi abbiamo già messo una flip cover molto particolare sul device perché ci permetteva mostrarvelo prima di tutto così smartphone richiestissimo perché ha un rapporto qualità prezzo eccezionale perché ha un firmware aggiornatissimo e perché ha una fluidità e un hardware assolutamente eccellenti per la fascia di prezzo in cui si trova andiamo comunque a scoprirlo con calma nei vari step della nostra video recensione naturalmente vi invito anche a leggere la recensione scritta per dettagli più approfonditi o magari abbiamo trattato altri aspetti non visti in questa recensione scritta allora questa inizierei dalla cover c'è tutta una serie di cover disponibili per questo moto g questa è la flip cover magnetica che si chiude purtroppo la nostra usata è usata anche un po stressata è magnetica ma non tiene più tanto come potete vedere c'è un sensore all'interno del moto g che quando apriamo la flip cover la parte frontale si sblocca automaticamente il device invece se andiamo a chiuderlo si andrà a bloccare direttamente flip cover che aderisce perfettamente per inserirla bisogna togliere la cover posteriore rimovibile andiamo a toglierla scusate tolgo la suoneria dall'altro telefono se no non ci sentiamo ok allora andiamo a toglierla non è un'operazione semplicissima non tanto perché non si è fatto bene la cover anzi sono materiali molto rigidi non si rompono però comunque preferiamo non fare troppa forza ok tutto a gancio tutto incastro quindi capirete anche voi che ci vuole comunque sempre un minimo di delicatezza nell'effettuare tali operazioni ok ci siamo quasi come potete vedere ci sta facendo scelerare non è la prima volta che la tagliamo ma tutte le volte abbiamo comunque faticato ok questo è il nostro moto g all'interno abbiamo memoria non espandibile come potete vedere non abbiamo slot per la micro sd una delle critiche forse una delle poche critiche che si possono fare a questo device scelta di motorola motorola che in questo caso si vede che era ancora figlia di google micro sim qua a destra andiamo a inserire la cover posteriore anche qui batteria non rimovibile pur praticamente vedendola non ci vorrebbe niente per toglierla allora andiamo a incastrare si incastra assolutamente bene smartphone solidissimo ben bilanciato molto maneggevole un bel mattoncino da tenere in mano dimensioni 129,9 x 65,9 x 11,6 mm di spessore forse un po spesso nella parte centrale ma la sua compattezza ne fanno uno smartphone assolutamente stra ergonomico tastierino di blocco sblocco messo ad altezza giusta finalmente abbiamo trovato soprattutto nell'ultimo periodo tanti smartphone in cui veniva messo a sinistra forse comodo per i mancini ma dato che la totalitarietà dei la maggior parte degli utenti è destra ci sembrava comunque una scelta azzeccata quella di metterlo qua posizione il nostro pollice abbiamo la parte sinistra interamente pulita una parte destra col bilanciere del volume e tastino di spegnimento sblocco e blocco e blocco tastierini molto ben fatti hanno un ottimo feedback molto rigidi piccola capsula auricolare si sente molto bene la vedremo dopo led di stato posto qua in alto fotocamera anteriore jack da 3,5 microfono per la soppressione dei rumori parte sotto microfono per invece raccogliere il nostro parlato è micro usb classica parte posteriore ben fatta le plastiche unicamente unico difetto rimangono un po' le ditate ma neanche eccessivamente molto carino logo del di motorola ti come moto x flash led fotocamera 5 megapixel alto parlante di sistema mono allora ve lo spengo ve lo bellissima animazione da scoprire di motorola google motorola che mentre ci arrivava questo device non è più di google google company no a lenovo company in questo momento speriamo appunto che proprio questa vendita di questo di motorola a lenovo non incida sul supporto di questo smartphone vediamo questa bellissima animazione che già ci mostra come sia fluido questo telefono un telefono veramente fluidissimo attendiamo ancora qualche secondo allora sin da subito si evince come android sia puro puro e crudo abbiamo infatti qua google now la scorciatoia l'icona scarica google now un altro momento abbiamo aggiornato ad android 4.4 kitkat e come potete vedere praticamente abbiamo android stock non con lancer di google now ma con il lancer classico presente le trasparenze in questo moto x come potete vedere trasparenza che però non è stata inserita nel drawer probabilmente la trasparenza come qualcuno di voi ben saprà è più pesante da gestire a livello hardware quindi una scelta che condividiamo per non appesantire questo device altro aspetto che mi è fondamentalmente molto piaciuto di questo smartphone del moto g è lo schermo da 4.5 pollici IPS uno schermo veramente ben fatto molto luminoso pur essendo un IPS gli IPS rispetto agli LCD classici di solito sono un po' meno luminosi andiamo ad aumentare la luminosità al massimo come potete vedere molto luminoso angolo di visione buono ma non perfetto come potete vedere alcuni colori soprattutto qua vedete il rosso cambia un po' tinta piegandolo niente di grave non è che ci mettiamo a guardare il telefono in questo modo ma una nota a margine altra piccola nota non vi ho detto la risoluzione HD 1280x720 pixel assolutamente sufficiente su uno schermo di questo tipo sapete che io non sono un fan dei super pixel sopra i 300-400 ppi assolutamente non ha senso salire troppo di ppi proporzionate il numero di pixel per pollice numero sufficiente è assolutamente gradevole da vedere motorola cosa aggiunge in questo moto G scusate è poco veramente poco abbiamo l'assist che praticamente è il nostro profilo profilo utente riunione, riposo, eccetera profili però intelligenti tipo riposo possiamo impostare le azioni spegni e scegli a che ora riaccendere tale profilo riunione lui si si sincronizza con il calendario e vede quando siamo in riunione e quindi cosa fa va direttamente in silenzioso un funzione utile e niente di eccezionale è comunque utile abbiamo anche risposta automatica quando siamo in riunione sono in riunione inviato da motorola assist messaggio assolutamente editabile non si possono comunque specificare a quali utenti inviare tale messaggio cosa troviamo? troviamo una tastiera numerico una tastiera QWERTY classica si scrive assolutamente bene ci ricorda molto il Nexus 4 quindi se avete avuto modo di provare o avete un Nexus 4 vi ritroverete moltissimo in questo smartphone sia a livello di dimensioni l'ergonomia è migliore a livello di tastiera è assolutamente identica come potete vedere si scrive assolutamente bene tastierini un po' più piccoli rispetto a noi adesso siamo abituati al Nexus 5 ma si scrive assolutamente bene non è attiva di default la swipe ma basta attivarla nelle impostazioni della tastiera multitasking che come potete vedere si utilizza è sempre ottimizzato come Android Stock strutturato nello stesso modo tendina allo stesso identico modo alle impostazioni classiche non troviamo niente di più vi faccio vedere che siamo già ad Android KitKat info sul telefono Android 4.4.2 sono pochissimi device a parte Google Experience a poter vantare già la presenza di questa versione di Android un plauso Motorola come detto già prima speriamo continui così il supporto andiamo a scoprire altre feature di questo telefono direi di passare la fotocamera fotocamera a 5 megapixel che presenta qualche particolarità abbiamo fatto anche una prova fotografica in merito qualche particolarità perché abbiamo il menu a sinistra menu molto comodo forse addirittura più comodo di Android Stock in effetti qua Motorola ha fatto benissimo metterlo inoltre abbiamo la funzione slow funzione slow slow motion che ci consente di catturare buoni video in slow motion probabilmente lui cattura 720p a 60 frame al secondo e riesce a a rallentare la nostra immagine adesso mi muovo un attimo andiamo a vederlo questo essendo un video in slow motion avremo sia l'audio sia il movimento rallentato certo non è dei più fluidi non cattura a 120 fps ma comunque il suo effetto la sua figura la fa non è da tutti comunque fare video in slow figuratevi per un device di fascia comunque più bassa abbiamo l'HDR automatico entra in gioco quando le condizioni sono favorevoli all'HDR cosa che vi consiglio possiamo attivarlo forzarlo o disattivarlo del tutto abbiamo il funzione controllo a fuoco esposizione a seconda del nostro trascinamento del dito funzione panorama formatore a foto geotag e suonoturatore disattivato o attivato foto sufficienti anzi buone certo non sono problemi soprattutto da ricercare nell'autofocus come potete vedere l'autofocus a volte non funziona tanto bene abbiamo delle immagini che spesso soprattutto con soggetti molto vicini vengono vengono sfocate questo lo potete comunque vedere meglio nella nostra prova fotografica per il resto comunque sopra la media dei dispositivi da 160 a 199 euro questo Moto G Moto G come dicevamo ha un difetto a questa memoria non espandibile quindi è fondamentale capire quale taglio di memoria comprare noi in questo momento abbiamo un 8 giga 8 giga che è veramente poco non tanto per il firmware che non occupa tanto essendo Android Stock è abbastanza libero ma più che altro per i giochi e le applicazioni un po' più pesanti soprattutto anche i video infatti in poco tempo si saturerà la memoria quindi un 16 giga per qualche decina di euro in più forse è consigliabile abbiamo anche la radio FM aggiunta di Motorola migrazione di Motorola da un altro device possiamo apprendere contatti e altre impostazioni anche iPhone abbiamo Quick Office già preinstallato telefono dialer troviamo fortunatamente questo è uno dei difetti che c'era prima nel dialer di Android Jelly Bean con KitKat abbiamo anche la ricerca dinamica nel dialer quindi Motorola va ad aggiungere senza forse neanche lavorarci sopra una funzione andiamo a vedere la parte multimediale album rullino scusate andiamo a vedere se ha scaricato tutto ok andiamo a vedere direttamente nella nostra applicazione Dropbox dove abbiamo le nostre video di prova partiamo subito con un Navi vediamo se si vede e come si vede precedente come potete vedere l'Avi si vede senza problemi molto bene andiamo a vedere un MP4 in alta definizione dove vi invito ad ascoltare l'audio la nostra corsa allo spazio degli anni 60 fu in risposta a un evento anche questo senza problemi naturalmente Android KitKat il player di default risulta assolutamente ottimizzato piccolo rallentamento in questo momento fa un po' fatica comunque a riprodurre più cose insieme abbiamo anche Dropbox che non aiuta lo chiudiamo e forziamo la chiusura a volte qualche micro lag non ve lo nascondiamo c'è ma è raro è molto raro e soprattutto lo troviamo quando magari giochiamo usciamo da un gioco lui rimane in stand by e comunque facciamo altre cose lì vediamo comunque un rallentamento generale del del telefono come potete vedere anche a livello di widget non c'è assolutamente niente di Motorola chiudiamo non c'è assolutamente niente di Motorola e si trova è praticamente pulitissimo cosa che molti di voi apprezzeranno ma sicuramente altri invece si troveranno un po' spaisati senza tutto per esempio pensiamo a un HTC con la Sense oppure a chi è abituato ad usare Samsung magari lo troverà anche un po' spoglio altra caratteristica Chrome di default è il browser di default andiamo su Nexus Lab mettiamo la visualizzazione desktop se non è già attiva allora Chrome che abbiamo appena finito di provare un HTC One Max hardware differente però il browser di HTC a livello generale secondo noi è più maturo di Chrome soprattutto a livello di fluidità e pinch to zoom di certo l'hardware non aiuta questo Snapdragon 400 quad core fa il suo lavoro si naviga benissimo per carità però arriviamo già da un HTC One Max che forse presenta il browser migliore sul mercato Chrome Google deve fare ancora molto lavoro a livello mobile con Chrome però comunque per il resto ci troviamo assolutamente di fronte a un browser usabile comunque veloce magari non fluidissimo ok ok come potete vedere c'è qualche piccolo lag ma niente di eclatante come vi dicevo l'audio non vi ho fatto ascoltare un brano provvedo subito a rimediare il solito Shakira un attimino eccoci qua audio molto molto superiore rispetto a tantissimi altri device fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista Motorola altoparlante che non storce neanche ad altissimi volumi veramente perfetto peraltro le telefonate della capsula auricolare si sentono benissimo ci sentono benissimo prende molto bene questo Moto G anche in città Torino pieno centro senza nessun problema manca l'NFC che sinceramente utilizziamo praticamente mai sui dispositivi che lo prevedono quindi una mancanza trascurabile di sicuro chi compra un Moto G non lo fa per prendere un telefono con l'NFC per il resto non abbiamo tante altre applicazioni da mostrarvi essendo Android pulito ormai lo conosciamo meno a dito è inutile andare oltre rimane un telefono che io personalmente consiglio a chiunque voglia spendere poco voglia un telefono con cui fare tutto fare tutto anche bene non solo sufficientemente bene Android l'ultima versione mi spaventa sinceramente il fatto che sia Lenovo adesso la padrona di Motorola questo è un telefono ovviamente voluto da Google e spero che con la sua vendita non muoia con Android KitKat questa è la mia speranza perché sarebbe un vero peccato perché è un device eccezionale per le domande e commenti eccetera vi affido ai commenti su YouTube ma soprattutto i commenti sul sito dato che risponderemo subito a quelli un saluto da Alessandro per Nexus Lab per l'ultima Grazie a tutti.